Alla televisione dicono che nevicherà. E io che cosa dovrei farci, Wendy? Oh, andiamo, tesoro. Come sei scontroso oggi? Ti prego, non sono affatto scontroso, è solo che vorrei finire il mio lavoro. Ok, non ti darò fastidio. Torno fra un po' con un paio di sandwich, che ne dici? Ma magari poi mi fai leggere qualcosa. Wendy, forse è bene che tu sappia che... Quando vieni da queste parti e mi interrompi, mi fai perdere la concentrazione. Mi distrai, capisci? E mi ci vuole un casino di tempo prima che io riesco a ritrovare il filo. Sono chiaro? Sì. Bene. Mettiamo una regola nuova. Quando io sto qua e mi senti battere a macchina... ...o non mi senti battere a macchina... Qualsiasi cazzo tu mi senti fare qui, quando mi trovo qui vuol dire sempre che sto lavorando. Allora fammi il porco piacere di non venire. Tu che ne dici? Ci riesci a farlo? Sì. Brava. Allora vedi di iniziare da adesso, levati dai coglioni, eh? Eh... Continua l'iscrizione. Ciao. Ciao.